Cosa da scogliare, cosa da capire, cosa da semplice, cosa da grigio a fare, cosa da infezire, cosa da indorare, cosa da fuggire, cosa da ritrovare, e se c'è una rosa donna in grigio a fare. Cosa da sagt, i sровeri ceroki, onore una carta Cosa da scogliare, cosa da scogliare, cosa da bruye, cosa da saporriere, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.